Sorelle Tavita, guardate che festa oggi qui, stanno avendo frutta fresca, yogurt fresco, fantastico, fantastico, fantastico. Dio ci benedica insieme. Musica Sapete che avere uno yogurt bevibile, bere un succo o bere uno yogurt è un lusso. Ecco perché vedete che attaccano, perché hanno paura di non riceverlo, che qualcuno lo riceve e qualcuno no. E stiamo cercando di tenerli buoni, perché avere uno yogurt per questi bambini forse lo mangiano una volta all'anno, perché è lusso avere qui lo yogurt, mangiare la banana, il frutto che è più accessibile economicamente è il mango, ed è questo, il mango. Vedete il mango, oggi facciamo festa, alleluia! E oggi facciamo festa un po' con lo yogurt. E oggi facciamo festa, alleluia! 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 Insomma, è stata una festa, anche qui all'Orfanotrofio, perché sapete, come già spiegato, un ananas qui è il lusso, uno yogurt è il lusso. In questo tempo si mangia il mango, perché è accessibile a tutti, ma qui adesso è festa perché abbiamo frutta fresca, un pieno di vitamine! Alleluia! Grazie Monica per questa bella iniziativa e speriamo che possa ripetersi al più presto. Un caro abbraccio! Ti conto? Qui? Non c'è Grazie Grazie Monica Grazie a tutti